19 grammi di cocaina nascosta nella camera da letto, un grinder, un cutter intriso di marijuana, 2000 euro probabilmente proventi di uno spaccio. Questo il materiale che è stato ritrovato a casa di una diciottenne che abita in centro storico. La ragazza è stata denunciata dalla polizia di Stato. Il materiale è stato trovato da un equipaggio delle volanti nel corso di una perquisizione. Il materiale è stato trovato da una perquisizione.